Il parto è quando nasci, ma quando ritrovi te stesso. Una citazione molto profonda che mi ha colpito, che l'ho detto anche nell'altro video, non posso dire la stessa cosa, che schifo! Degli orrori, no? Questo è il teatrino degli orrori. La nascita non è quando... Il parto... La nascita non è il parto, ma quando ritrovi te stesso. Ciao, sono Maria di Comunicazione Emotiva e ho una domanda. Che cos'è la libertà? La libertà... Ciao, sono Maria Iscia di... No, cos'è la libertà? Ah, ok. Ciao! No, cos'è la libertà? In linea generale, lo volevo condividere con voi. Grazie. Ciao! Ciao! Ciao!